Giusto Manetti Battiloro è un'azienda storica fiorentina che dal 1820 produce oro e argento per decorazione solitamente per cornici, mobili di antiquariato e quant'altro. Già da tanti anni stiamo servendo anche grandi chef che utilizzano la foglia d'oro per la decorazione anche delle proprie pietanze. Da un paio di anni Manetti Battiloro ha iniziato anche a produrre oro e argento per decorazione di pietanze o di bevande anche per uso domestico. Sono infatti polvere, briciole e fiocchi che vengono inseriti in comodissime salierine che possono essere utilizzate direttamente anche dalla persona più inesperta. Hanno prezzi del tutto abbordabili, il target della clientela va dai 18 ai 40 anni e fornisce un argomento in più per le nostre cene e per i nostri aperitivi perché appunto può essere messo sia su bicchieri di prosecco, di champagne, su cocktail, su cibi, su bevande, sia salati che dolci. È completamente in odore, è in sapore, non è tossico e è anallergico. Non fa male, anzi nella medicina cinese si dice che fa bene, i giapponesi lo ritengono indispensabile sulle proprie tavole e addirittura in omeopatia lo forniscono come ricostituente. I ristoratori possono rivolgersi direttamente a noi o se no anche da distributori per il settore Eureka mentre la clientela può rivolgersi nelle gastronomie più particolari, più di pregio per esempio il Rinascente in piazza Duomo a Milano piuttosto che nelle gastronomie più famose della propria città troveranno sicuramente i nostri prodotti.